Mezzanile e l'ecomusea dei Chiodaioli sale espositiva ufficio in relazioni con il pubblico via Arsenale a Torino fino al 30 maggio. Il territorio di Mezzanile nelle valli di Lanzo si qualifica come esempio unico sulle Alpi per la diffusa presenza di un gran numero, oltre 70, di piccoli laboratori per la produzione di chiodi ed altri oggetti in ferro. Tra le pagine è il segnalibro dal nastrino di seta colorato al design nella biblioteca della regione via Confienza 14 a Torino fino al 1 giugno. L'esposizione propone una selezione di circa 150 segnalibri, da quelli inglesi di fine ottocento a quelli coloratissimi per bambini fino ai contemporanei, frutto della creatività di designer e illustratori.